Musica Napoli il prefetto avverte meno reati ma allarme droga. Conferenza stampa di fine anno del prefetto di Bari si registra un calo di reati ma in provincia aumenta la diffusione delle sostanze stupefacenti. Dolore per gli omicidi di Maimone e Giorgio siano da monito per i giovani. Da risa ai puo e venditti, il capodanno nelle piazze, Napoli, Avellino e Salerno festeggeranno l'ultimo dell'anno con i concerti di grandi artisti. Attese migliaia di presenze, varati piani per la sicurezza e impegnati centinaia di agenti solo a Benevento e niente brindisi in piazza. Lotta ai botti proibiti, consigli dei carabinieri continuano i sequestri di petardi illegali in Campania, Salerno scoperti diversi chili di materiale pirotecnico non a norma e a Bosco Reale è stato arrestato un cinquantenne. I consigli dei carabinieri per evitare incidenti. Flashmob a Bosco Trecase, riaprite il pronto soccorso, centinaia di cittadini in protesta questa mattina davanti all'ospedale per chiedere la riapertura del pronto soccorso. I comitati fanno appello alla Regione e al Ministro della Salute. Da tre anni centinaia di pazienti abbandonati. Ordinò di uccidere l'ex all'ergastolano, si difende a risposto alle domande del giudice, si è difeso il 38enne di Benevento che sta scontando l'ergastolo in Sicilia e ora accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ex, ma è ancora a caccia al killer. Erano le principali notizie di oggi, le avete ascoltate nei nostri titoli. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. Apriamo con la conferenza stampa di fine anno in prefettura Napoli. Il prefetto di Bari dice gli omicidi di Maimone e Giorgio Cutolo siano da monito a tutti i giovani. Sentiamo. Aumentano gli arresti e diminuiscono i reati, ma in provincia ci sono più furti, rapini e traffico di droga. E' quanto emerge dai dati forniti questa mattina dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, nel corso della conferenza di fine anno che si è svolta a Palazzo di Governo alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine. Ma il 2023, ha precisato il prefetto, è stato anche l'anno della morte di Francesco Pio Maimone e Giorgio Cutolo. Alle famiglie va forte la nostra vicinanza, ma devono essere episodi che siano da monito per i giovani. L'appello più importante che io voglio fare riguarda la comunità e soprattutto i giovani ad avere a improntare i loro comportamenti ad atti di grande responsabilità per evitare che possano accadere fatti negativi per la pubblica e privata incolumità. E' importante che questa festa sia davvero una festa di comunità. E la festa di comunità è una festa a cui concorrono tutti e i giovani sono magna pars di questa comunità. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha poi aggiunto i dati sugli ammonimenti emessi nel corso dell'anno. Sono 94 per violenza domestica, 69 per stalking, 3 nei confronti di minori, con 441 d'aspo tra ultrass e violenza urbana. E da Napoli a Salerno c'è grande attesa per la vigilia di Capodanno in Piazza Plebiscito e Piazza della Libertà. Nel capoluogo si esibiranno tanti artisti, tra cui Arisa e The Color, mentre nella città di Arechi brindisi della mezzanotte con i Pum. Si lavora senza sosta al montaggio dei grandi palchi di Napoli e Salerno per i concertoni della vigilia di Capodanno la notte di San Silvestro a Piazza Plebiscito. Ci sarà l'attore comico Peppe Iodici ad accompagnare tutti verso il brindisi di mezzanotte con tanti artisti, tra i quali Arisa, The Colors ed Enzo Avitabile con i Bottari. A inaugurare invece Piazza della Libertà a Salerno ci penseranno i Pum e tra la gente cresce l'attesa. Siamo venuti a fare un sovralluogo. Entusiasmo per questa band? Certo, come no. È anche della mia epoca, chiamiamola così. È legato ai ricordi anche del passato. È un bene organizzare questi grandi concerti a Napoli, Salerno. Assolutamente sì. È eventi che muovono un sacco di gente e fa venire voglia di uscire e di andare in giro, anche se il tempo potrebbe essere un pochino inclemente. Servono sempre per attrarre il turismo. Anche noi siamo turisti in questo momento perché veniamo da Bologna. Beh, insomma, la musica è sempre stata un elemento di attrazione. Questo periodo di feste fa piacere, insomma, se ci sono, se si possono venire anche degli eventi, insomma. A noi piace la musica. Le piacciono i Pum? Beh, come possono piacere i Pum? Blindate le piazze imponenti, le disposizioni di sicurezza e antiterrorismo, strade chiuse a Napoli, 600 agenti in servizio e a Salerno 300 uomini delle forze dell'ordine in strada. Siamo al dettaglio. Le ultime ore sono state febbrili, abbiamo lavorato bene, ho fatto un sopralluogo in Piazza della Libertà. Credo che sia tutto assolutamente a posto. Massima sicurezza, massima organizzazione. Ad Avellino 15.000 in piazza per venditti e Lucchè, predisposto un maxipiano sicurezza, festa, promette, capodanno senza precedenti. Il conto alla rovescia è già scattato per il capodanno di Avellino. Si comincerà alle 22.15. Il primo a salire sul palco domani sera, presentato da Anna Pettinelli di RDS, sarà Antonello Venditti. Dopo la mezzanotte toccherà al rapper napoletano Lucchè. Per il sindaco festa non ci sono dubbi, sarà un capodanno senza precedenti. Avellino si conferma pieno diritto sulla ribalta nazionale. Io vivo a Modena da 35 anni, sono venuto a posto per venditti qua. Ho i parenti qui ad Avellino, però sono venuto soprattutto per l'immenso venditti. Dal palco sicuramente promette bene, quindi ci sarà una grande festa, finalmente tutti in piazza e quindi a festeggiare il nuovo anno, speriamo, di pace. Sicuramente festa in piazza insieme a tante persone. Le piace venditti? Sì, sì, assolutamente sì. Il solito c'è uno e poi dopo, se mai, si viene a vedere il concerto di Antonello Venditti. Sempre in famiglia, alle 9 e mezza si scende. Saremo qui domani sera. Noi siamo qui come turisti, quindi ne approfitteremo. Allestito un maxipiano sicurezza con vie di fuga, tre maxischermi, a via Matteotti e due lungo corso Vittorio Emanuele, parcheggi a Campetto Santarita, Piazza Kennedy, al Mercatone, nel Piazzale del Comune e all'ex asilo Patria e Lavoro e diverse strade del centro chiuse. Il sindaco inoltre ha emanato un'ordinanza che prevede il divieto di petardi e botti dalle 20 alle 4 del mattino. Niente concerto in piazza nella notte di San Silvestro. A Benevento c'è un po' di delusione tra i giovani, ma l'amministrazione spiega la scelta con la volontà di spalmare gli eventi nei giorni precedenti e successivi. Non si brinderà in piazza a Benevento nella notte di San Silvestro. Nel capologo San Nita l'amministrazione ha deciso di non promuovere il tradizionale concerto di fine anno. E' emanata anche un'ordinanza che vieta la somministrazione di bevande in vetro o lattine e ci sono limitazioni riguardo all'uso dei fuochi d'artificio. Ma è soprattutto il mancato evento in piazza a deludere i più giovani. E' una cosa che accomuna un po' tutti, quindi peccato non l'abbiamo fatto. Dobbiamo andare altrove. Non c'è molto da fare qua la sera se non andare in qualche bar a versi una cosa. Un momento anche per ritrovarsi tutti quanti. Era un'occasione per attraire giovani, bimbi, famiglie e un modo per festeggiare e stare insieme. Capisco anche la scelta con i casi Covid che stanno aumentando. E quindi che fate a Capodanno? Eh, discoteca. In casa con gli amici. A chiarire la situazione è la Presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento. Quello che abbiamo cercato di fare quest'anno è di non concentrare i fondi pochissimi che avevamo in un unico appuntamento ma dare ampio respiro, spalmando su vari eventi in rioni, quartieri e anche contrade quello che avevamo a disposizione. Ecco perché non ci sarà il concertone di Capodanno ma l'amministrazione sta già lavorando ad una serie di appuntamenti che prenderanno il via a gennaio. Che poi fa pure il bilancio sulle proposte già messe in campo. Sta andando molto bene, abbiamo iniziato il primo di dicembre ricomprendendo tutto il calendario dell'avvento e termineremo il 7 di gennaio, in particolare nel foyer del Teatro Comunale dove si terranno due appuntamenti che vedranno protagonisti i libri. Continuano i sequestri di botti proibiti in Campania. A Salerno scoperti diversi chili di materiale pirotecnico non a norme. A Bosco Reale è stato arrestato un cinquantenne. I consigli dei carabinieri per evitare incidenti. I primi dati purtroppo assomigliano già ad un bollettino di guerra. Ancora prima della notte di San Silvestro i feriti da scoppio di petardo sono già un'emergenza in Campania. Un campanello d'allarme che ha spinto le forze dell'ordine a intensificare i controlli per evitare la vendita di botti illegali. Nelle scorse ore a Bosco Reale nel Napoletano i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne del posto. I militari durante una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto quasi cinque chili di polvere da sparo. In particolare sono stati sequestrati 34 ordini esplosivi artigianali. Le due più pericolosi di un peso di 525 grammi ciascuno. Controlli e sequestri anche a Salerno dove i militari hanno rinvenuto diversi chili di materiale pirotecnico non a norma. Venduto da una bancarella abusiva del centro cittadino. Il venditore ha ricevuto una multa da 5.000 euro, intanto proprio alla luce dell'aumento dei feriti. I carabinieri hanno rinnovato l'invito ad essere prudenti. Se noi parliamo degli ordini esplosivi che per la loro potenzialità di rompente e micidialità vengono assimilate alle bombe a mano da guerra, dell'eventualità che vi rinveniate all'interno dei centri abitati o di altre strutture, non toccateli, allontanatevi e chiamate le forze di perlizia. Verrà personale specializzato a rimuoverli. A Bosco Trecase centinaia di cittadini in protesta questa mattina davanti all'ospedale per chiedere la riapertura del pronto soccorso da tre anni. Centinaia di pazienti abbandonati. Sentiamo. La morte della piccola Maria, la neonata di tre mesi deceduta dopo essere stata respinta dall'ospedale di Bosco Trecase, sarebbe solo l'ultimo tragico episodio. E mentre la magistratura indaga sulle eventuali responsabilità, cittadini e comitati di Bosco Trecase, Torre Annunziata e dei paesi vesuviani chiedono ora con forza la riapertura del pronto soccorso di quello che era un DEA di primo livello. Stamane la protesta davanti al nosocomio dove da oggi ci sarà un presidio permanente per chiedere l'intervento risolutivo della regione Campania. Da quattro anni che è chiuso e non chiediamo alla narrazione che i medici non ci stanno. Quattro anni fa c'erano perché non vengono più a lavorare all'ospedale di Bosco. De Luca ci deve rispondere. Perché questo, lo ripeto, è un DEA di primo livello. C'è un atto aziendale e non può mancare il pronto soccorso che deve aprire domani mattina. Non possiamo aspettare che ci siano dei concorsi o delle realtà che possono essere trasferiti. Ricordo a tutti che appena tre anni fa questo pronto soccorso funzionava, c'erano i medici specialisti, sono stati trasferiti in altri reparti. Li rivolgiamo qui. Perché non è possibile da questa zona che serve 300.000 abitanti raggiungere gli ospedali vicini. Tanta gente ha scelto di morire a casa piuttosto che in un'autoambulanza aspettando il proprio ingresso a quel pronto soccorso. Un bambino si è salvato, una partoriente ha salvato il suo bambino grazie all'ultima notte che stava aperto il pronto soccorso per la ginecologia. Per quella piccolina che è morta di tre mesi. Siamo ancora qui, hanno fatto il battesimo e il funerale a quella piccolina. De Luca passa di una mano sulla coscienza. È morto nella notte a Roma. Il giornalista Paolo Graldi era stato direttore del Messaggero e del Mattino. Era nato a Bologna il 27 maggio 1942. Aveva quindi 81 anni. Negli ultimi anni aveva continuato sempre a scrivere come editorialista del gruppo Caltagerone del Mattino di Napoli. Graldi è diventato direttore nell'ottobre del 1994 per passare poi nel 2001 alla direzione del Messaggero. La stampa è in crisi, diceva spesso Graldi, ha bisogno di idee e di intercettare il gusto del pubblico. La società cambia e i giornalisti devono fare altrettanto. A risposto alle domande del giudice si è difeso il 38enne di Benevento che sta scontando l'ergastolo in Sicilia ed ora è accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ex compagna. Interrogato questa mattina nel carcere di Augusta in provincia di Siragusa per rogatoria Nicola Fallarino, 38 anni di Benevento. Arrestato come presunto mandante del tentato omicidio dell'ex compagna di 32 anni del capologo Sannita ferita l'11 novembre alla testa da un colpo di pistola. Esploso da un uomo arrivato in scooter con il volto coperto. Collegato con il suo difensore, l'avvocato Domenico Dello Iacono, il 38enne, ha scelto di non avvalersi della facoltà di restare in silenzio e per un'ora e mezza ha ricostruito la sua versione dei fatti respingendo ogni addebito e spiegando di avercela con la donna perché a suo dire si sarebbe appropriata di un bar che ritiene di sua proprietà. Non vere, secondo l'indagato, le cose di cui è accusato. Non sono mie le frasi minacciose contenute in quelle chat. Si sarebbe difeso, del tutto opposta alla ricostruzione del PM Stefania Bianco e della squadra mobile di Benevento secondo i quali avrebbe commissionato l'attentato perché non avrebbe tollerato l'interruzione della relazione e dei colloqui in carcere da parte della 32enne. Per questo avrebbe preteso che lei abbandonasse l'appartamento in cui avevano commissuto e il locale da lei gestito da tempo. Tentato omicidio che, secondo l'accusa, sarebbe stato ordinato dal carcere mediante l'utilizzo di alcuni telefoni cellulari che l'uomo deteneva nonostante la reclusione. Per un giorno il maschio angioino di Napoli si è trasformato in un luogo magico e incantato, un evento dedicato ai più piccoli con performance e magie acrobatiche. Il maschio angioino di Napoli si è trasformato nel Castello dei Bambini, un'iniziativa che rientra nel programma del Capodanno a Napoli promosso dall'amministrazione comunale. Attività didattiche e intrattenimento ai piccoli partecipanti con magici laboratori e coinvolgenti momenti musicali. E poi postazioni di gioco interattivo, animazione didattica, social corner, spettacoli sul palco e performance artistiche. Una giornata di festa per tutta la famiglia con ingresso libero, tra le esperienze emozionali, quelli della fantabolle sonore, dove l'artista ha realizzato acrobazie con le bolle di sapone, trasformandole al suon di musica e il social corner, ovvero una postazione dedicata ai social, utilizzata in modo giocoso e coinvolgente. Presenti poi la scuola di magia e musica, con i filarmagici, con giochi interattivi, mentre danzatori e musicisti e violinisti hanno dato il via a quadri musicanti, ossia delle cornici animate. Due nuovissime attrazioni hanno rubato l'attenzione di grandi e piccini, una sfera di 4 metri di diametro all'interno della quale è stato possibile addentrarsi, e infine la luna, ovvero una struttura di 6 metri, dove una performer di danza acrobatica aerea ha creato una magica atmosfera con tessuti colorati e usando come sottofondo melodie e musiche classiche napoletane. Prime schermaglie verso le amministrative di Avellino, il sindaco festa boccia all'avversario De Maio, l'Ambrosone replica, da festa solo macchiaggi, problemi sono ancora qui. Auguro buona fortuna a Benny De Maio, ma non mi sembra che la sua candidatura parta con i migliori auspici. Non dico che sia un agnello sacrificato perché c'è una campagna elettorale, ma sembra che in questo momento sia stato scelto dagli altri. A differenza mia, che ho scelto la mia coalizione, definito il programma, selezionato i candidati e deciso di candidarmi. Prime scintille verso le amministrative ad Avellino, tra il sindaco uscente, ricandidato Gianluca Festa, e Benny De Maio, avvocato penalista, candidato del centrosinistra. La vice segretaria del PD, Enza Ambrosone, replica così a festa. Festa è stato votato dalle persone, si è scelto da solo. Lui è l'esponente di un civismo che cela tratti autentici di destra. De Maio è stato scelto da forze politiche, per cui il centrosinistra, che ha delineato un campo progressista, ha trovato la sua sintesi in una figura riconoscibile, e è un professionista affermato che con responsabilità ha accettato la chiamata per svolgere una competizione complessa nell'interesse della città. Festa è stato bravo a compiere un'opera di maquillage sulla città, aggiunge l'Ambro Sone, ma i problemi li ha nascosti sotto il tappeto. Spente le luminarie, i cittadini di Avellino si troveranno a combattere con il traffico, ad avere politiche sociali inesistenti, politiche urbanistiche non ragionate, o meglio ragionate con pochi. La chiusura del tratto di Cilentana, Travalo della Lucania e Massicelle, per problemi strutturali sul viadotto, sta creando disagi agli automobilisti. Il presidente della provincia di Salerno Alfieri chiarisce la messa in sicurezza è fondamentale, ma ci auguriamo che non si perda tempo. L'appello è che si faccia presto. Sono già tanti i disagi dopo la chiusura del tratto di Cilentana, Travalo della Lucania e Massicelle nel comune di Ceraso, per problemi strutturali sul viadotto Acquarulo. La strada è chiusa fino a nuove disposizioni. L'ha chiarito l'ANAS che sta intervenendo per garantire la sicurezza degli automobilisti, ma fondamentale non perdere tempo. A dirlo il presidente della provincia di Salerno Alfieri. Il viadotto in realtà è competenza dell'ANAS, ma questo non significa niente perché dobbiamo essere sempre preoccupati quando si crea un disagio, però dobbiamo dire pure che la messa in sicurezza, la salvaguardia delle opere strutturali, la manutenzione o il pericolo va evitato. Quindi l'ANAS che fa il suo mestiere bene, che ha risorse, ha personale, sta facendo tutti gli accertamenti e ci auguriamo che i tempi per il lavoro siano quelli giusti, che non si perda tempo, però il disagio purtroppo c'è. Ora la provincia sta intervenendo invece sul percorso alternativo stabilito fino a quando non aprirà nuovamente il viadotto Acquarulo. Per quanto ci riguarda, noi invece siamo intervenuti immediatamente sulla vecchia strada alle 18, che sarà il percorso alternativo. Era una strada poco trafficata, quindi anche un po' abbandonata. Stiamo lavorando per metterla in sicurezza e per renderla quanto più possibile sicura e percorribile. Ed era questo il nostro ultimo servizio, il Tg termina qui. Grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel. mi piace little bit in 5 anni. Grazie a tutti.